Piogge insistenti in questi giorni, nevicate in quota, ma freddo, quello vero, in arrivo nel classico colpo di coda di un inverno sinora particolarmente mite e clemente, soprattutto per l'Abruzzo. Un nucleo gelido di aria fredda dalla Siberia è in cammino verso l'Europa e nel prossimo weekend raggiungerà l'Italia con l'ingresso della Bora, classica dell'Adriatico, previsti dunque venti intensi, mareggiate sulla costa, temperature sotto lo zero e nevicate anche in pianura. Gli esperti hanno rivelato un surriscaldamento anomalo della stratosfera, il cosiddetto stratwarming, uno dei più interessanti degli ultimi anni. Ora gli effetti di questo riscaldamento si stanno per riversare nella troposfera, ossia nella zona dove avvengono i fenomeni atmosferici. Successivamente l'arrivo di una bassa pressione atlantica interessa agirà con l'aria gelida favorendo probabili possibili estese nevicate e l'Abruzzo potrebbe essere il grande protagonista. L'esperto meteo Angelo Ruggeri, dunque neve in arrivo? Più che neve diciamo per il momento che ci sono delle buone probabilità che possa arrivare un'intensa ondata di gelo a partire dal corso della giornata di domenica e durante i primi giorni della settimana prossima, questo allo stato attuale delle cose. Neve prevista anche sulle coste? Se l'impianto barico attualmente visto dai modelli fisico-matematici dovesse essere confermato a questo punto sembrerebbe scontata la risposta, cioè sì. In questo caso con un tipo di aria, di questa massa d'aria gelida proveniente direttamente dall'estrazione artico-continentale, quindi proveniente dalla Russia per dirle in parole povere, in questi casi la neve arriverebbe anche in pianura e lungo le coste. Si parla di Buran o Burian, un nome che mette quasi paura, ondata gelida di vento freddo che viene direttamente dalle steppe, ma è giusto? Ti ringrazio per questa domanda perché serve per fare una doverosa precisazione. Il Burian non esiste, esiste casomai il Buran che è un vento che soffia solo ed esclusivamente in Siberia e in Mongolia. In Italia esiste la Bora, quindi tutte le masse d'aria che giungono tra virgolette dai Balcani si annunciano con venti di Bora, tramontana, grecale, ma il Burian lasciamolo nei paesi d'origine. Comunque venti freddi, e che consistenza prevedete che possa avere questa ondata di maltempo e soprattutto l'accumulo nevoso? Attualmente, come ben sapete, come ben sai, i dettagli previsionali a 72-96 ore è ancora un po' presto per sbilanciarci. Però, come dicevo prima, se l'impianto barico dovesse essere confermato, le nevicate potrebbero essere copiose, non solo in alta quota, ma anche a quota medio-basse. Poi, è chiaro, i centimetri nessuno li potrà prevedere. Ci potremmo sbilanciare a sole 24 ore dall'evento. Comunque, potrebbe essere un evento di una portata eccezionale.